Dretti alla meta e conquista la preda. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Eeeh che rosso! Eeeh non lo vede che... Minchia verde! Eeeh che rosso! Oh yeah! 3, 2, 1 Questa è tipica musica delle indicazioni stradali. Allora, mi sentite la via del 24 maggio per qualunque? Sì, sempre dico, non deve girare nessuna, destra e sinistra, sempre dico! Allora, mi sentite la via del 24 maggio per la via del 24 maggio. Allora, mi sentite 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 la via del 24 maggio. Grazie!